Buonasera signor Carton. Buon Natale. Grazie signorina Maret. Signorina Marta, buon Natale. Le augurerei buon Natale signor Carton se non fosse chiaro che l'ha già festeggiato. Va alla funzione di mezzanotte, anche noi. Ci accompagni. Perché no? Grazie signorina Maret. Buonasera signor Carton. Buon Natale. Grazie Miss Maret. Miss Ross, buon Natale. Anch'io direi a voi buon Natale signor Carton se non fosse chiaro che lo avete già fatto. Forse stavate andando alla messa di mezzanotte. Venite con noi. Perché no? Grazie Miss Maret.